Grazie a tutti, allora io so che ci sono domande, facciamo una domanda da una parte e una domanda dall'altra, allora, prima domanda, prego. Io vorrei spezzare una lancia a favore dei giovani di oggi, che io ritengo siano sensibili, generosi, pronti a qualsiasi dedizione, ovviamente se motivati da una giusta causa. Per quanto riguarda il libro, le lettere di quel libro, da quelle lettere si edince un malessere per me quasi cosmico, una inquietudine sofferta, dovuta al fatto che mancano, secondo me, dei punti fermi di riferimento. A questo punto io chiamerei in causa le tre principali agenzie educative, la famiglia, la scuola e la società. Tu parli di società, la società siamo tutti noi e allora vediamo come si potrebbe fare per dare a questi giovani una prospettiva futura di speranza, di fiducia in se stessa e negli altri. Quello libro è amaro, i giovani non hanno fiducia nella famiglia, non hanno fiducia nell'amicizia, non hanno fiducia nella società. Perché? Io so che le tre agenzie educative dovrebbero, per dare a questi giovani fiducia e speranza, operare in maniera sinergica, collaborare e soprattutto nel rispetto dell'altro di se stesso. La famiglia, nel quale il ragazzo muove i primi passi, io penso che ce la mette in punta per far sì che il giovane possa promuovere al massimo quelle persone sulle capacità. Però è sempre in contrasto spesso con la scuola. Vediamo le immagini che ci propinano in massiglia di genitori, alunni che si scappiano contro i professori. La scuola, è vero, potrebbe avere delle carenze, io parlo dai misinsegnanti, però c'è la mente tutta. Si prodica per sviluppare nel migliore dei modi il potenziale umano. Da un orientamento scolastico, il guaio è che questo orientamento scolastico non è, lo trova un riscontro positivo nell'orientamento professionale. Cosa succede? Tu parlami di futuro quasi sconosciuto e ignoro. Succede che al termine, non so, in un corso di studi, sia un diploma, sia una laurea, i giovani vengono cadavoltati in una società che non offre loro delle prospettive valide di lavoro. E quindi il giovane cosa deve fare? Deve quasi mimetizzarsi, diventare come un camale a monte, pronto ad accettare qualsiasi cambiamento. Parliamo di un mondo di lavoro, di varie difficoltà, di un lavoro che potrebbe mancare. E allora è costretto ad accettare un lavoro sottovalato, un lavoro precario. Tutto ciò che non gli dà possibilità di un futuro. E allora facciamo in maniera che la famiglia, la scuola e la società operino in maniera sinergica, ma soprattutto nel rispetto di se stessi e degli altri, nel rispetto della dignità dell'uomo, perché l'uomo sia piccolo, sia grande, ha dignità. Non dimentichiamo che Seneca diceva che in ogni uomo c'è un elemento divino che è la dignità, la coscienza. Se tu togli la dignità a un uomo, lo spogli di tutto ciò che può avere. A parte il fatto che la nostra società è un'unica, non dimentichiamo che è una repubblica democratica. È l'articolo primo della Costituzione, che è entrato in vigore il primo gennaio del 48, dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Diamo questo lavoro in maniera che i giovani possano veramente inserirsi nella società e siano speranzosi per se stessi e per gli altri. Grazie per l'intervento. Sotto a cui io vorrei dare un intervento, uno di là e uno di qua. Allora, facciamo un'ottima rinforza, per questo di sottotitolo. Poi, Anna e poi questo di là. Facciamone due in una volta intervento. Io volevo intanto complimentarmi con la dottoressa, perché ha parlato di individualismo e questo è molto importante e non in categorie. E poi ho detto una cosa che per me è importantissima e che io ho sempre osservato nella mia vita, posso dire, specialmente nel mondo della scuola. L'ascolto attento. Noi ci illudiamo di ascoltare. In realtà non riusciamo ad ascoltare. Non lo facciamo gli adulti e non lo fanno neanche i ragazzi. Poi capisco che ricordo le parole di un preside che va a dire non dire a tuo figlio leggi, perché non leggerà. Tuo figlio leggerà se tu leggi, perché il ragazzo non ha bisogno di sentire, ha bisogno di vedere. Quindi, e questo mio modo di fare, l'ho utilizzato nella scuola. Quello di stare molto attento ai ragazzi, di cercare di capire quello che c'è dietro il loro sguardo. Non dire, tu meriti due, tu meriti tre, oppure devo portare a compimento questo programma perché lo devo fare. No, perché i ragazzi hanno i loro tempi. Quindi sono io che mi devo adattare ai tempi dei ragazzi. Perché io li devo in maniera particolare ascoltare. Quando venivano i genitori e mi chiedevano degli alunni, io dicevo sempre ma voi che cosa ha comunicato con i vostri figli? Perché la cosa più importante per me era il dialogo. Io cercavo sempre di dialogare con i ragazzi, di capire quali erano le loro difficoltà. Perché dietro un atteggiamento aggressivo c'era una famiglia con genitori separati, un problema di povertà e altri problemi che noi tutti conosciamo. Perché qui è inutile che parliamo perché poi dovremmo esasperare addirittura il problema. Perché ce ne sono tanti problemi, dottoressa. Lei ha ragione. E poi c'è questa insoddisfazione. Ma questa l'abbiamo avuto pure noi. Perché alla nostra età anche noi ci siamo messi in contrapposizione con i nostri genitori. Cara mia scrittrice, giovane, bellissima pure. Io mi complimento con te perché sai veramente scrivere. E questo oggi non è di tutti. Però la scrittura è una cosa bella. E veramente come diceva la mamma, la mamma ha fatto bene. Ti ha regalato un diario, ti ha guidato. Hai avuto una famiglia bella. Sei stata una ragazza fortunata. Perché ha avuto dei genitori che ci sono stati vicini. Forse questo non è per tutti. E forse è un dolore oggi. Perché oggi purtroppo la famiglia è crollata. Ma non è crollata solo perché questa è la società oggi. Ma perché c'è molto egoismo. Perché molte volte più che stare con i figli si vogliono fare altre cose. Ognuno cerca di fare qualcosa per sé. Quindi nella famiglia ci dovrebbe essere meno egoismi. I genitori dovrebbero stare più vicini ai figli. E io dicevo sempre che cosa dovete fare? Vado domenica. Prendete il vostro figlio. Mettetevelo in macchina. E andate a mangiare la pizza. Però mentre siete in macchina parlate con il vostro figlio. Quindi in realtà andate a mangiare la pizza. Ma non è quella la vera realtà. La vera realtà è il dialogo che riuscirete a instaurare con i vostri ragazzi. Perché solo così si può costruire veramente. E dialogando si costruisce nella famiglia. Dialogando si costruisce nella società pure. I professori devono dialogare con i figli. Nelle associazioni bisogna guardare attentamente i ragazzi. I ragazzi hanno un mondo. Dio troppo di loro. Come ce l'avevamo noi. Cerchiamo di scoprirlo insieme in questo mondo. Grazie. Mi chiedeva quali proposte. Cosa possiamo fare. Cose da fare ce ne sarebbero tante. Io credo che se ci ascoltassimo anche quelli che siamo qui. Ognuno di noi ha un'idea. Però restringendo il campo e parlando solo della nostra città. Ne abbiamo già parlato con Giuseppe. Stiamo proponendo. Quindi ne paghiamo e siete tutti invitati. Un metodo che ci possa consentire di coinvolgere tutti i cittadini. E quando dico tutti i cittadini significa tutti. Significa che i quindicenni, i sedicenni. L'uno ha un ruolo preciso. Questo ci consentirebbe davvero di poterci ascoltare. Di poter proporre delle iniziative. Ma soprattutto un'organizzazione che possa consentirci di creare sviluppo in questa città. Io poi vi invito a... Non so come possiamo fare Giuseppe se c'è la possibilità di inviare una mail. Sì, lo possiamo fare. Allora intanto io vi dico questo metodo si chiama Reggio Proattiva. Tutto attaccato. E anche qualcosa intanto c'è su una pagina Facebook dedicata. Ma ci sarà presto il sito. Ve lo leggete con calma. Se volete lo sottoscrivete. Ci tengo a dire soltanto una cosa perché è la domanda che mi viene posta sempre. Allora innanzitutto da chi è promosso questo metodo? Dai cittadini. Non c'è alle spalle un'associazione, un movimento, nulla. Semplicemente ogni cittadino che sottoscrive diventa di conseguenza organizzatore. Quindi per una volta non ci sono riunite tre o quattro persone a decidere le sorti e a chiedere consenso. Seconda cosa. È un metodo che si contrappone ad attuale amministrazione comunale o a quelle passate? No. Assolutamente no. Vogliamo pensare al presente e al futuro da cittadini. tanto che questo metodo è stato sottoscritto anche da persone attive in politica. Per fortuna la prima persona che è sottoscritta mi sono un po' preoccupata. Ecco ora verrà letto come da un metodo di parte. Per fortuna poi hanno sottoscritto anche le politici. Ormai abbiamo coperto tutte le coalizioni. Ecco quindi non c'entra. È un metodo che si parla di politica con la P maiuscola ma politica dei cittadini. perché continuiamo a fare iniziative davvero interessanti, convegni, ci stiamo formando tanto. Dico sempre che Reggio ha raggiunto comunque un livello culturale alto. Ve lo dico, forse non ci riferete ma io lavoro tantissimo fuori, in giro per l'Italia quindi ho un po' la misura di quello che accade sui altri territori. Allora noi a Reggio, magari perché non abbiamo tante altre cose da fare, abbiamo la possibilità di partecipare a convegni. Ogni settimana abbiamo tre o quattro convegni interessanti nel territorio. Anche tutta la parte culturale si è molto sviluppata anche grazie alle muse. Un tempo non è avuta questa offerta di cultura. Però adesso è necessario trasformare ciò che sappiamo, ciò che abbiamo consapevolezionato in azione. Perché se no continuiamo a crescere in cultura ma non utilizzare questa cultura per agire. Quindi è intanto una risposta a Cristina, intanto invito Cristina a sottoscrivere perché come diceva la professoressa voi, parlo con te, di ogni rappresentante, anche di altri ragazzi, voi avete bisogno di essere ascoltati. Però ascoltate. Quindi c'è la possibilità. Ci sono le occasioni in cui vi viene chiesto, molti ragazzi della tua età già hanno sottoscritto, sono già attivi. C'è la possibilità di partecipare, essere protagonisti del presente e del futuro. Dovremmo fare, come dire, proporre un incontro altro per affrontare e approfondire alcune tematiche che sono emerse, alcuni spunti, per esempio quello del lavoro. Ci sono tante le variabili. Ci lamentiamo che c'è poco lavoro, la professoressa dice sì, ma comunque ci sono delle offerte. Attenzione, c'è poco lavoro non solo perché, Cristina, abbiamo voluto lasciarvi un mondo in pezzi. Molto dipende anche da cose. Allora, la mancanza, la carenza di lavoro è anche determinata da variabili molto belle. La possibilità è che molti ragazzi provenienti da famiglie umili, con risorse economiche scasse, questi ragazzi oggi sono laureati. Ecco, quindi abbiamo molti più nemici, abbiamo molti più compagni, abbiamo molti più psicologi. E questo è un problema, però grazie a Dio che è così. Sì, quindi dobbiamo cercare ora anche noi di adattarci. È vero che prima, e continuano a esserci tante possibili lavoro che prevedono il fare l'operaio, il fare le pulizie, eccetera, ma infatti la domanda c'è, l'offerta c'è, la domanda è interpretata da persone che non sono italiane. E allora, cerchiamo di tutti insieme capire come inventare lavoro, non creare, perché ormai c'è una saturazione di quelle che sono le professioni canoniche. Molti giovani in gamba si stanno inventando lavoro, mi dicono non c'è lavoro, però io vedo colleghi miei, ma anche io ora insegno anche alla facoltà di giurisprudenza, e vedo ragazzi laureati da 5, 6, 7 anni che piangono, si lamentano, se la prendono con gli adulti, eccetera, eccetera. Poi vedo ragazzi appena laureati che, quizzo, inventiva, eccetera, eccetera, si propongono, certo non è che all'inizio si può avere lo stipendio da 5.000 euro al mese, però ragazzi che fanno, che si inventano, che trovano nuove nicchie, e allora sì, tutti insieme. Allora, rinnovo l'invito a leggere il documento di cui vi parlavo, vi ripeto, Reggio Proattiva, date uno sguardo, se anche voi volete diventare parte attiva del sistema, senza dover essere invitati da nessuno, senza dover essere designati, siete voi che dite io voglio fare qualcosa per la mia città e stavolta lo voglio fare davvero con le azioni, e tutti insieme si decideranno. Allora, io mi vorrei complimentare con te perché hai avuto il coraggio da adolescente di mettere in pubblica piazza tutto quello che vi travaglia, perché voi siete ossessionati da 100.000 problemi, e io penso, perché parlando con molti giovani, anche per quello che hai esposto nel libro, che questo vostro subuglio d'animo, irrequietezza, disubbidienza, non voler ascoltare le parole dei genitori, non prendere consigli in famiglia, fare di testa proprio, vi viene perché nella vostra generazione manca la vera presenza della famiglia, e quindi per voi è una forma proprio di ribellione, di ribellione perché la mamma sicuramente è poco presente, io suppongo che tu, perché è successo a me, sarà successo a loro, da piccoli siete stati sballottati una volta dalla nonna, una volta dalla zia, una volta da qua, una volta di là, quindi siete cresciuti in un ambiente incostante, non protettivo, quindi oggi vi sentite proprio nella situazione di ribellarvi a questo mondo, penso di aver interpretato bene, non è il tuo caso, assolutamente, non lo voglio, guarda, non voglio nemmeno entrare nell'intimo, però questa ribellione, guarda, abbiamo figli, abbiamo nipoti, nipoti soprattutto per me, che vivono quello che tu hai messo, hai descritto a parole. Grazie Anna, vuoi rispondere? Ci tengo a dire che io in questo libro non voglio fare la morale a nessuno, non voglio impegnare niente a nessuno, io voglio dire, noi siamo questi, siamo crescenti così e viviamo così, in risposta ai professori, a tutto quello che è stato detto, alle famiglie, io lo so che nella vita ci sono cose belle e cose brutte, infatti penso sempre al pianoforte, suona il pianoforte e sono cresciuta anche con quello, la melodia si suona con i tasti neri e con i tasti bianchi, però nel pianoforte di tasti neri ce ne sono di mano che di tasti bianchi, quindi è vero che la scuola insegna tanto, io posso testimoniare che la scuola adesso, almeno per quello che ho vissuto io e che ho visto con i miei occhi e solo le situazioni, la scuola mi insegna che c'è tanta corruzione pure, che c'è corruzione, che non c'è meritocrazia, perché se da 14 anni un docente viene a dire le raccomandazioni esistono e esisteranno, allora io a 14 anni rispondo, ma che cosa mi state insegnando? Complimenti al docente, perché veramente stai dicendo una cosa minimamente grave, perché no? Però questo mi è ricordato, attenzione, no, so che c'è anche questo, c'è l'una e c'è l'altra, quando è scritto questo libro, mi è stato dato, scusate, facciamola parlare, quando è scritto questo libro, mi è stato dato di essere più morbida su determinate situazioni, ma se devo fare qualcosa e la devo fare per cercare di migliorare le cose, gli occhi li devono aprire tutti, se esiste anche questo, oltre alle cose belle, allora bisogna avere comunque la responsabilità, la maturità di dire esiste, perché lo so che esiste il professore in quel modo, però so anche nella mia vita che ho avuto docenti di italiano, che ancora è percanzio, e poi l'ho dedicato pagina a pagina di questo libro, e grazie a loro anche se scrivo, so che ho una famiglia alle spalle, però come io e una famiglia alle spalle, so di ragazzi che famiglie non ne possono avere, che il padre o la madre non ne hanno più conosciuti, so che magari il voto nella mia vita non conta niente, ma per un ragazzo un voto di maturità non meritato, o magari al po' le viene tolto qualcosa per dare ad altri, può cambiare la vita, perché la borsa di studio da questo dipende, l'università fuori da questo dipende, il mio futuro dipende anche da questo, per questo ho detto devo essere schierta, perché voglio che comunque non si faccia di tutta l'erba un fascio, ma si dica esiste, 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 e dove c'è il marcio devo cercare di migliorarlo, come Rava, come Reggio Calabria. Buonasera, innanzitutto mi complimento con Cristina, non so se altro per il coraggio, che ha avuto rispetto a tanti altri, suoi poetani, di pubblicare, di scrivere un libro, di scrivere le sue erazioni. Io penso questo comunque, fin quando il mondo adulto comunque cerca di comprendere, dover risolvere quello che è un disagio fisiologico giovanile che appartiene all'età dell'adolescenza, allora il problema non è del mondo giovanile, del mondo adolescente, ma è del mondo adulto, il mondo adulto dovrebbe cominciare a interrogarsi, anche perché io vi capisco, ma tra i giovani, poi ritardo, ma c'è niente anche io, non ventenne, però appartengo a una generazione, diciamo, che insieme a voi ha stupito questo cambiamento dagli anni 90 fino ad adesso. E c'è una società oggi adulta che è sempre quasi schizofrenica, ci confonde, ecco, i genitori che dicono al figliolo non litigare col compagno di classe e magari durante la partita del bambino fanno a cazzotti col papà dell'altro genitore, dopo mamme ad esempio che dicono alle figlie resti un po' più decente magari come esci in questa moda e magari lei è la prima che ha 60 anni, quasi ridicola, anche nell'età più bella che una donna possa vivere, però a volte si ridicolizza in questi termini e da qui concordo poi con le parole della dottoressa e bene o male abbiamo detto un po' tutti che quella che i giovani alla tifine che cosa fanno? Tappano le orecchie ai consigli ma aprono gli occhi agli esempi. E la nostra società non è che ha dato degli esempi ai ragazzi. La domanda comunque che volevo fare a Cristina è se come fosse o perlomeno come potesse essere il prossimo tuo libro se anziché Vi parlo di noi fosse intitolato Vi parlo di me. Allora io ora il 16 maggio faccio 18 anni i miei amici i miei figli hanno iniziato con Vi parlo di lei quindi c'è anche per dire allora Vi parlo di me se dovessi scrivere adesso un libro su me stessa onestamente probabilmente comincerei con la scrittura come ho sempre fatto e farei della scrittura il filo portante della mia vita però il allora quello che sono è dovuto anche alle esperienze che ho avuto nella mia vita e molto spesso mi viene detto che ho 18 anni però sempre ho 20 anni che ragionano con 60 anni quindi 30 anni diciamo 40 anni il sono comunque quello che sono e voglio scrivere voglio cercare di cambiare le cose perché l'ho visto fare dei miei genitori non posso negarlo e diciamo che ad avermi portato a scrivere questo libro che vi parlo di noi facciamo slash su molti aspetti vi parlo di me nel voler cambiare le cose è dato anche dal fatto che sono molto legata a questa città il non poter magari sentirmi dire che non posso vivere la mia vita che mi fa stare male e questo è un sentimento che ho preso da mio padre comunque il voler cambiare il voler cercare di migliore la situazione e di trovare soluzioni anche come può essere il libro che forse non è niente non verrà mai detto da persone che possono realmente cambiare le cose però è già qualcosa il voler collaborare con Zobzud e dire la mia è un modo per cercare di avvicinare il mio futuro a questa città perché se voglio cambiare se voglio vivere più la realtà Zobzud è diretto da Aldo Varani da una vista dei decani che insomma conosciamo bene che è una persona abbastanza autorevole possiamo fare altre domande perché io stasera mi sono preoccupato in quanto c'è una persona in particolare che sempre in internet non mi ha disturbato non mi ha detto devo parlare devo fare l'intervento mi sono preoccupato del tutto nel genere stasera non mi ha interrotto non ha detto devo dire quindi sono molto preoccupato stasera il problema è stata molto tesamente però c'è stata un po' attenzione che diceva scriviamo così non iniziamo soli io avevo detto diversamente leggiamo così non iniziamo soli se mi raccomando o è nel libro era libero ma nessun cortino adesso non è tutta capirare ma non so che non iniziamo soli perché leggere e scrivere secondo te è un'arte sì assolutamente io sono sempre un'altra che ha domanda di me perché ho apprezzato molto ma la conferenza è stata molto interessante anche perché sono inserita hanno una vita più attiva rispetto a me per motivo che magari io potrei essere non mi piace sempre ascoltare queste cose grazie grazie per quanto riguarda l'arte secondo me alla base di tutte le arti ci sono la scrittura e la lettura perché se penso alla musica per me sono queste cantate quindi la scrittura c'è l'arte l'arte è negli occhi di vivele vabbè ma l'arte è negli occhi di vivele però gli occhi sono uno specchio dell'anima l'anima la si esprime attraverso l'arte è un circolo vizioso non si può stare senza scrivere secondo me è il mia madre mi ha insegnato che a scrivere non rende soli scriviamo così non siamo soli è vero che leggere si può stare sempre dalla lettura non leggere comunque può sentire meno soli però magari per chi ci riesce perché si rifugia nello scrivere quando metto un aero su bianco che sia la mia vita che sia la vita che vorrei vivere è un qualcosa di più personale riesco comunque a qualcosa di mio prodotto con le mie parole e soprattutto dalle mie mani quindi è come se fosse costruendo sempre per me un figlio non c'è niente di meglio magari più che rivedermi nelle parole di altri sono contenta del fatto che molte di ragazzi si rivedano nelle mie parole quindi mi aiuto anche a starmi più vicino altro intervento venuto così il fraracondello ho notato che è la meta l'autorice il fatto che questa generazione siano rimaste le briciole ma io dico che tutte le nuove generazioni hanno le briciole anche io ho avuto le briciole della generazione precedente e anche mia madre e anche sua madre però credo che la forza dei giovani sia proprio quella di ricostruire la torta da queste briciole anzi già tanto ne hanno le briciole perché dovrebbero costruire la torta senza briciole dall'inizio e questa è una cosa e poi un altro volevo dire che certo ho notato che lei non pensa bene dell'amicizia però al di là del fatto che lei non pensa bene dell'amicizia può essere anche ragionevole voglio dire alla sua età o aver avuto delle delusioni la cosa che mi ha delusa mi ha fatto molto dispiacere è che questa affermazione ha avuto tanti applausi vuol dire che tanti di noi non crediamo nell'amicizia ho un po' pianto dentro di me mi dispiace però io ci credo perché io non aspetto nulla dagli altri io do perché do non mi importa che gli altri non mi siano amici nel senso che non mi diano quello che dovrebbe dare l'amicizia io do e basta amicizia servizio io rispondo con le parole del libro perché a questo punto allora che ci sia anche questo è vero ma io sui miei amici le mie amicizie ho amicizie che durano dopo una settimana di vita e ora che arriveranno a 18 anni di amicizia e ci credo ma come ci credo credo a questo credo anche che esistano esiste come esiste nell'essere umano il bene e il male quindi so che magari lo sgarro questo forse non si riesce a capire che l'adolescenza è uguale a tutte le età per carità è verissimo però non so se vi è mai capitato ad adolescenti che vi venissero rubati i soldi che venissero mandate persone come dilico che alcuni ragazzi vengano alcune ragazze vengano prese di mira per comunque diciamo essere prese in giro da gruppi di amici che vengono fatti scherzi di cattivo gusto perché purtroppo è questa la cattivaria della mia adolescenza certe volte certe volte c'è anche questo Cristina rispondo io sì sì allora si chiamava in maniera diversa di quello che hai detto l'unica differenza è il come tipico perché tranne qualche parte del nord d'Italia non si beveva oggi si beve anche a Reggio Calabria per tutto il resto purtroppo sì solo che nel senso io ci continuo a credere dico ok non ci accade voglio dire in un contesto sociale dove cresco mi si viene detto che la vita è rosa e fiori che è bella che è qua che c'è l'amicizia io so che devo andare in un locale e guardarmi che non mi mettono qualcosa nel dici per essere con cui ci sono andata nel locale ed è così è inutile che la gente questo è chiedere al genitore di capire un chiesce che spiega allora questa è una cosa non è la mia storia andata è insusenziale ma forse ci sta sai come allora io credo che non so quindi ne stiamo un po' confondendo perché tu ti sposti spesso dal io o io allora io è generale facciamo un'attesa allora forse non è un problema però so che esistono quasi sai cosa ci sta confondendo Cristina perché se io parlo con te e parlo con te no? è una cosa se io parlo con te e tu ti aspetti che io parlo con le persone di cui parli è un'altra cosa e non posso parlare con te perché tu non sai in realtà quelle cose che provano immagini e va benissimo però ecco l'importante questo lo dico a te lo dico a me lo dico a tutti noi è un po' l'apertura e poi daccio attenzione a non incorrere nel visto di generalizzare di categorizzare noi possiamo intuire cosa trova un'altra persona però attenzione a non correre l'errore di essere certi di ciò che l'altro prova perché questo credimi è molto pericoloso allora rispondo la signora si rispondo generale Cristina Liotta qui presente nell'amicizia non ci crede ci basa la propria vita perché l'ha sempre fatto per aiutare le persone i miei protagonisti nel libro come c'è chi nell'amicizia ci basa la vita c'è chi nell'amicizia lo fa io quando mi si chiede la trama del libro ho difficoltà a resumerla perché non è tutto nè non è tutto bianco né grigio è tutto c'è chi si ama c'è chi si odia c'è chi non ci crede c'è chi ha la famiglia c'è chi lavora c'è tutto infatti è impossibile attribuirlo a una persona per quante differenze di personalità vi siano presenti per quanto riguarda l'affrontare la situazione dell'amicizia in generale il crescere ripeto Cristina Liotta nella sua vita è contenta è felice e sta bene però sa perché l'ha visto che magari delle situazioni di cui non ci viene parlato perché poi non le ho visto io sono diciamo il generale quello che vedo magari vengono accentuati ma non se ne parla per questo non ho voluto parlare questo è stato l'unico problem ma se dovessi fare di tutto l'erbonfascio tutto ne è tranne che quello che ho scritto perché c'è talmente tanta differenza che non se ne può fare di tutto l'erbonfascio più tante questo è ho chiuso Cristina è molto determinata fa questa dottore Cento prego faccia la domanda la domanda che ha messo la domanda ma anche non mi si puoi rispondere il tuo microco si Enzo che ti sei mai sentito una ragazza tanti tempi sì e quale motivo me ne sono accorta guardando un film veramente perché ho dei gusti personali a livello di qualsiasi cosa nella vita che mi fanno pensare agli anni venti quindi mi è capitato di vedere un film di Woody Allen che è in McIn Paris e ho detto sei voluta nascere agli anni venti l'argomento è abbastanza voglio dire io questo mi viene insomma volevo chiederti pure a Teresa ma in effetti i giovani a volte io vedo non posso fare nomi non posso fare mi è capitata una collega da un ragazzo di sostegno che naturalmente che ha il sostegno e che ha problemi alle alti mentalmente non capisce eccetera è venuto a chiedere le prove di matematica che è così il ragazzo non ha fatto le prove di matematica deve fare comprensione ma se il sostegno è se non è in grado di capire cioè voglio dire il problema a volte siamo noi no? è anche l'approccio perché quando entriamo in una classe noi andiamo a identificare le diverse tipologie e cambiare il docentato o è cambiare il modo di insegnare io questo dico perché quando una collega più grande di me viene e mi chiede le prove di matematica di un ragazzo che ha il sostegno e che ha problemi che non riesce neanche a stare in piedi che sulla sedia a rotelle cioè qual è il problema? no io non lo so sto dicendo una cosa guarda che intervibile qualche grego dotato di sostegno c'è un programma che è iniziato perché è rimasta al suo ente ma perché noi non capiamo a volte? no invece io non lo so se era no un handicap intellettivo perché se il ragazzo intellettivamente non è anche handicap intellettivo quindi sia da noi che lo sappiamo io sto facendo questo esempio per dire a volte si cerca anche di far partecipare il ragazzo portato dei miei da parte interna di una classe di attività semplici e a programmi differenziali allora io mi ho chiesto dicevo ho detto questo particolare non per parlare di un caso però per dire a volte siamo noi docenti che non riusciamo a capire quali sono le dinamiche per cui una Cristina che si trova in una classe percepisce che non trattiamo capito con queste no 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 io mi sto parlando di una situazione nostra di docenti siamo noi che non riusciamo ad entrare in comunicazione con allora il problema è questo non tutti possono essere trattati allo stesso modo e quindi nella eterogenità è chiaro che c'è Cristina che è un essere pensante mi permetto di dire pensante rispetto a quelli frivoli che si impasticcano e li abbiamo visti tutti voglio dire ai miei tempi anche noi ci saremmo potuti impasticare non è che non c'erano non è che non io non ricordo voi immaginate io quindi allora io ho 15 anni mi ricordo andrei a Londra e entrai in una discoteca di sette piani immaginate sette piani di discoteca dove c'era di tutto e di più e dove io tranquillamente mi sono circolato non so se mi spiego cioè il problema a volte è sì anche della famiglia che vi esce ora c'era infatti la mamma che voleva dire voleva dire qualcosa ma è a volte anche come entriamo noi interagiamo o no nella società con le persone io penso che sia che le si hanno un unicum su voglio dire in questa città sono pochi quelli che d'altra parte l'associazionismo popolo giovane non ne ha c'è anche questo problema no? anche questo è un abbiamo per la città di psicologo che era soltanto un intervento che mi volevo rilasciare al professore Cento che si al dottore Cento volevo soltanto dire che la copertina del libro è stata ideata da Cristina quindi a proposito di chi ama l'arte ecco della scoperta dei propri talenti l'ha fatta lei l'ha disegnata per lei l'ha fatta realizzare poi dal grafico il riferimento dell'editore quindi questo per dire soltanto su cui parlava di arte cioè Cristina è una persona che ama l'arte in generale Dominella allora come ce ne dobbiamo tornare a casa questa sera? con la macchina allora come dobbiamo tornare a casa stasera? dobbiamo tornare a casa con con l'impellezza più di dirci di ascoltare con mandare via la fregola di voler sempre avere le chiare perché questo ci dà sicurezza con il restituirci la sicurezza che ci consente di ascoltare l'altro così in attesa e poi magari farci un'idea e quindi torno riassumendo al concetto di ascolto ascolto non solo dell'altro ascolto del territorio ascolto di quello che accade però così come un bambino stupito che non presume già di sapere cosa accadrà con lo stupore che io credo ad ogni età ci dobbiamo consentire ad ogni età io conosco persone meravigliose davvero che hanno superato i 90 che vedo stupirsi ancora di persone corte persone davvero che hanno un'esperienza di vita una cultura accademica eppure ancora ascoltano chiunque per imparare che allora se ciascuno di noi si vuole in tal modo al cospetto di altre persone al cospetto della natura io credo che davvero tutto potrà andare per la meglio e poi concludiamo anche dicendo questo risponderà Teresa Polimeni noi abbiamo fatto questi incontri dedicati alla scrittura questo è il quarto in due settimane se non sbaglio in un romanzo abbiamo raccontato di una ragazza della sua età che veniva trattata molto male dal padre in quanto madre gelosa della figlia e quindi stigatrice nei confronti del padre di atti di violenza proprio per questo atteggiamento l'incontro successivo abbiamo parlato in un caso di cronaca di Stefano Cucchi di quelle che sono le dinamiche nella società di oggi all'interno delle calci il terzo caso letterario che abbiamo analizzato è il sogno di una ragazza degli anni 60 che ha vissuto con la mamma e con la zia in una piccola cittadina di provincia con tutti i pro e i contro oggi conosciamo una giovane che insomma che parte i pugni Teresa questa voglia di scrivere insomma serve è catattica sì certo comunque il tema centrale è sempre la famiglia i rapporti in famiglia e gli scopri generazionali quindi come vedete si ripercuotono nel fluide del tempo perché ogni età conosce questi aspetti che si ripropongono e comunque molto rispetto alle altre donne certo volevano volevano essere c'era una richiesta di essere liberata dal male della società ma come allora io ho detto il bene e il male come dice Cristina è molto bella l'immagine perché io ho una figlia pianista i tasti bianchi e neri cioè il male il bene il male è il diciamo frutto del fango originario della creazione il bene è l'alito divino della creazione quindi sono elementi antideffici ma che convivono e dobbiamo cercare di migliorare sempre noi stessi a qualsiasi età come dice la nostra dottoressa proprio perché abbiamo sempre la possibilità di essere noi stessi in meglio quindi in questo caso c'è questa immagine di ragazze di piccola donna di giovane donna io per la verità ne ho conoscete altre che sono state delle mie allieve e addirittura una che hanno scritto hanno pubblicato e una da sposata ha scritto il libro e l'ha dedicato alla mamma e alla sua docente di italiano quindi questo ci fa sperare che se noi crediamo nei giovani se noi abbiamo fiducia in loro e soprattutto io mi sono rosta sempre domande e rispetto di fronte ai giovani e noi creiamo degli esseri che sanno stupirsi che poi lo faranno anche a 90 anni abbiamo delle persone che comunque recepiscono e poi un messaggio che voglio dare ma non c'è bisogno alla nostra scrittrice perché veramente è un bel esempio di giovani calabrese quindi tenaci noi siamo molto forti noi meridionali e di studiare non è il suo caso però attraverso lo studio si può trovare anche il lavoro oggi perché proprio vi dicevo alla dottoressa ho avuto conoscenza proprio in questi giorni che sono stati perditi diversi concorsi per i laureati quindi vuol dire che il lavoro che c'è bisogna studiare e essere molto preparati perché oggi nella grande affluenza c'è la selezione che è difficile che è terribile però io ho sempre avuto fiducia mi sono posta sempre con un atteggiamento positivo perché se lavoriamo se ci crediamo nelle nostre capacità avvideranno i risultati sono fatti ma ci saranno comunque complimenti ancora e allora grazie 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 a te le parole mi volevo apprendere una cosa prima che mi ha chiesto Cristina non è figlia unica qualcuno mi chiedeva mi ha chiesto ma anche Cristina è figlia unica no non lo è Cristina io dico che stasera è andata bene a te la conclusione insomma per sentire come 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 è che tu riesci a casa con il libro chi vorrà all'ingresso lo potrà acquistare prima che conclude Cristina vi do l'appuntamento a domenica prossima all'evento regionale degli artisti a Sovelia ma neanche poi ci rivedremo il giorno della festa della mamma sarà una bella cosa il 13 maggio che faremo con l'ordine dell'ostetrica faremo una mostra storica molto bella con tante testimonianze Cristina come dobbiamo tornare come torni tu a casa stasera? io a casa torno come come sempre soddisfatta di quello che dico perché mi piace mi piace sapere dire il mio punto di vista quando ho l'opportunità di parlare io mi lascio dicendo io il passo l'ho fatto e l'ho fatto a nome di tanti altri l'ho fatto forse lo posso aver fatto male in maniera sbagliata bene se prendete questo libro e comunque avete voglia di leggerlo leggetelo veramente mettendomi in discussione con il cuore in mano e dicendo scegliendo se afferrare quella mano mettendoci del vostro mettereci del vostro oppure se non afferrare la propria lasciare le cose utili buona notte